Gentili telespettatori, buona giornata. Caos in Parlamento sulla proroga per i condomini, super bonus, lo stop del MEF, del Ministero dell'Economia e della Finanza. Quindi rispunta il super bonus 110%, se avete visto le ultime inchieste sugli esodati del super bonus, fa impressione. Ci sono 85.000 palazzi, condomini, che sono nei guai in mezzo ai lavori che non potranno andare avanti, perché questi lavori erano stati cominciati sull'onda del è tutto gratis, non paghi né tu, non paga né il costruttore, ma paga il governo. Siamo arrivati a un certo punto, come per gli esodati della Fornero, che lo Stato fa marcia indietro e dice fermi tutti, questo super bonus è pieno di truffe, questo super bonus è fuori controllo, avete tempo fino a dicembre, se no ve li pagate voi i lavori. Ma tutti questi condomini, pensate 85.000 condomini, erano stati cominciati proprio senza soldi, tanto era gratis, adesso che ci sono questi condomini fermi, sventrati, aperti, senza il tetto, senza le finestre, adesso la legge dice, beh se non finite tutto entro il 31 di dicembre, tutto quello che viene dopo ve lo pagate voi. E si parla di miliardi che gli italiani non hanno, quindi gli esodati del super bonus, ed è un problema molto grave per queste persone perché si trovano a pagare il mutuo della casa senza avere più la casa, la casa mezza distrutta. Ecco, queste persone non hanno colpa, semplicemente si sono fidate dello Stato, come con la legge Fornero, vi ricordate gli esodati della Fornero? Le persone che colpa avevano? Quella di essersi fidati dello Stato. Adesso è colpa di Conte, il pacco di Conte, però il super bonus l'hanno mandato avanti tutti. Tutti i governi hanno approvato e mandato avanti il super bonus perché faceva bene all'economia, tirava su il PIL. Il Ministero dell'Economia esclude in una nota qualsiasi ipotesi di proroga del super bonus, circolata in queste ore, pubblicata da alcuni organi di stampa. Fino adesso il Ministero ha sempre risposto secco no alla proroga del super bonus, ma all'interno della maggioranza c'è chi Forza Italia in primis non si arrende, tanto che mentre la legge di bilancio appare ancora ferma al palo e difficilmente verrà varata prima di Natale a causa dell'emendamento sulle infrastrutture. Quello che contiene il ponte sullo stretto è la possibile riduzione del suo finanziamento nel primo anno. A una parte della maggioranza è sembrata l'occasione per inserire tra la decina di emendamenti previsti anche quello sul super bonus. Bisogna, dicono dalle parti di Forza Italia, penso che qualcosa per chiudere questo stato di avanzamento dei cantieri in maniera non onerosa possa esserci. vediamo cosa dice il governo, dice Dario Damiani di Forza Italia. Beh, la situazione attuale è assolutamente disastrosa quella che vi raccontavo. Restano da finire lavori per 13 miliardi di euro, ma le detrazioni per il prossimo anno saranno solo del 70%. Per tentare di aiutare chi si trova oggi in mezzo a questa promessa del super bonus non mantenuta dallo Stato, si dovrebbe portare a un avanzamento dei lavori straordinari da presentare entro la fine dell'anno per coprire con il bonus 110% tutti i lavori fatti nel corso del 2023. Dal primo gennaio, per quanto riguarda abitazioni indipendenti, tipo villette a schiera, villette, non c'è nulla da fare. Mentre più complesso è il discorso dei condomini. Beh, l'ipotesi è di riscrivere tutto, se però senza un'estensione del bonus 110% si rischiano i blocchi dei cantieri che già sono bloccati. Molti condomini non possono pagare neanche il 30% di differenza che non avevano calcolato. Immaginate che il 30% su milioni di ristrutturazione, immaginatevi il 30% su 2 milioni, 600 mila euro da dividere, non lo so, in 30 condomini, 20 mila euro a testa. La gente non ha neanche i soldi per mangiare. E voi direte, allora perché hanno fatto la ristrutturazione? Era gratis? Era assolutamente gratis. Voi dite, beh, si ferma la ristrutturazione, è finito lì. Sì, ma la ristrutturazione ha comportato togliere le finestre, rifare il tetto, quindi ci sono gli edifici che sono sventrati, non c'è più la casa di prima, con l'umidità, l'acqua che entra, quindi gli edifici si stanno deteriorando, altro che ristrutturare. Si sta deteriorando tutto. Naturalmente questo è un problema perché questo super bonus doveva essere una cosa solo temporanea, doveva essere una cosa che durava qualche mese per aiutare l'economia e doveva essere limitata in alcuni casi. invece il super bonus è stato esteso, è andato fuori controllo, è stato tenuto perché cosa succedeva? La gente faceva i lavori gratis, i costruttori avevano questi lavori che tanto poi pagava qualcun altro e alla fine l'economia si è mossa con il super bonus, questo è indubbio, ma si è mossa su un qualcosa di farlocco, cioè voi lavorate che poi paga lo Stato e adesso che è arrivato il conto per lo Stato si parla di 150 miliardi di buco, di debito che lo Stato deve pagare. Ecco, quindi è stato un crescere dell'economia farlocco nel senso che sì, sì, costruite gente che veniva assunta, cantieri che lavoravano, soldi che giravano, ma alla fine c'era l'inghippo, alla fine il fate tutto gratis non poteva reggere, quindi il PIL aumentava, ma aumentava il debito, perché tutto quel PIL che aumentava erano debiti per lo Stato, era una cosa artefatta, farlocca. Ecco, grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, arrivederci a tutti e grazie. Grazie.